Noi siamo assolutamente inviperiti per queste storie che accadono a Venezia, le sappiamo da anni, le abbiamo sempre denunciate e noi chiederemo sicuramente un incontro a breve con il commissario Zappalorto perché vengano fatti dei controlli accurati, controlli fiscali, controlli amministrativi, perché non è giusto che venga tolto spazio alla residenzialità e quindi che le famiglie veneziane vengano sbattute in terraferma perché questi signori abusivamente facciano del business nella nostra città. Lotta l'ultimo sangue contro l'abusivismo, dice Matteo Secchi, portando la protesta fino alle istituzioni che ora reggono la città di Venezia, pur di mettere fine al dilagante fenomeno. Danneggiano gli albergatori in regola con fisco e contabilità, occupano edifici a danno della residenzialità, espongono i turisti a rischi per mancanza di certificazioni di sicurezza. Eppure basterebbe poco, spiega Vittorio Bonacini, presidente Associazione Veneziana Albergatori, per farli venire allo scoperto. Basterebbe solo incrociare quanto compare nelle varie OLTA, quindi online travel agency, tipo Booking, tipo Expedia, tipo Venere, cominciare a vedere se tutte quelle che compaiono sono regolarmente iscritte nelle camere di commercio e se sono recensite direttamente dall'azienda provinciale per il turismo e il soggiorno. Evidentemente coloro che così non sono hanno più di qualche cosa che non va. Il mobilitarsi di cittadini e categorie contro i problemi risolti di Venezia sottolinea ancora di più le carenze nella gestione delle delicate questioni cittadine. Siamo in presenza di un fenomeno che è stato non governato dalla precedente giunta comunale e ti venirebbe quasi voglia di dire che i vari blitz che erano stati fatti sempre contro i soliti noti. È più facile andare a recensire, controllare, verificare aziende esistenti e regolarmente operanti e segnalate piuttosto che iniziare una lotta senza quartiere contro l'illegalità e l'abusivismo.